ma cosa cazzo state dicendo cosa state dicendo allora ragazzi ragazzi sento l'esigenza fisiologica di fare questo video che è un po' uno sfogo un po' una reaction alla notizia ok io sono sconvolto sono sconvolto sono sconvolto ma prima la sigla vai ma dai facciamo un remake anche solo stanotte tanto è solo un cliché che nell'originale non si batte nessuno lo guarderà all'oscar non andrà ma noi si vedrà e che piacerà il nostro remake ok questo è un estratto di una mia canzone trovate il link qua sotto ma parliamo subito di ciò di cui dobbiamo parlare allora ero in bagno ed erano forse le 5 le 6 del mattino alle 9 dovevo svegliarmi per andare al lavoro apro instagram e vedo questa foto di un Buzz Lightyear con un'altra tuta dei tratti sommatici leggermente più giovanili e penso bah cos'è sta roba? apro diciamo la descrizione della foto su instagram e annuncio una cosa all'inizio pensavo uno scherzo ho comunque a un certo punto ho pensato che si trattasse di un cortometraggio insomma uno dei tanti di Toy Story insomma uno della serie vado su youtube digito l'ITR e mi esce il teaser trailer vedo anche il video della presentazione della disney e si parla di un lungometraggio cioè raga allora premissa chi è iscritto a questo canale già da un po' sa il mio livello di fanatismo di Toy Story basta guardare insomma un po' questa fascia di video e raga raga io sono onestamente eccitatissimo un poco preoccupato anche però non lo so attualmente l'adrenalina l'eccitazione rispetto alla notizia è la cosa che mi pervade quindi tutto il resto tutte le altre riflessioni cercherò di farle adesso ma forse non sono abbastanza lucido però allora innanzitutto cosa sarà questo film? sarà uno spin off sulla storia di Buzz Lightyear di questo ipotetico film realmente esistente che poi dava il personaggio di Buzz Lightyear ora noi questa cosa chi è un fan vero già la conosce dico chi è un fan vero perché purtroppo ogni volta che mi trovo a parlare con persone scopro che tantissimi non hanno visto il film d'animazione del 2000 ovvero Buzz Lightyear da comando spaziale tra l'altro che secondo me è un film bellissimo bellissimo divertente originale intrigante belli disegni tutto tutto cazzo e non viene minimamente considerato come un film del mondo Toy Story non va bene tra l'altro c'è anche la serie del 2001 nata diciamo dalle radici da da sostanzialmente questo film ora questo film che dovrà uscire racconterà le origini del personaggio di Buzz Lightyear ci tengo molto a specificare questa cosa perché in molti su youtube specialmente in america e comunque anche qua riviste giornalistiche stanno parlando di prequel annunciato il prequel di Toy Story annunciato il prequel su Buzz Lightyear allora non è un prequel perché un prequel che cos'è è una storia preghessa alla storia originale ok Lightyear sarà uno spin off sul personaggio irreale nel mondo irreale di Toy Story ovvero il personaggio che vediamo negli spot pubblicitari ok il personaggio di Buzz Lightyear ora quali sono le mie perplessità la mia prima perplessità è che appunto possano fare un film copia carbone del film d'animazione Buzz Lightyear da comando stellare sempre sto parlando film non cagato da nessuno anche perché molti dicono e vabbè ma quello è un film a cartone animati e quindi cioè solo perché è stato fatto con un'altra tecnica non bisogna cagarlo come funziona ora ok che diciamo l'animazione computerizzata tutto un altro fascino Toy Story è storico in questo senso eccetera però raga è un bellissimo film consiglio a tutti di recuperarlo ma a parte questo quindi la mia prima preoccupazione è questa la mia seconda preoccupazione è che potrebbero fare qualcosa troppo similare a quello che abbiamo visto già in Toy Story 2 con Woody ok con le avventure diciamo del West i Woody Roundup e insomma vedere un po' un po' la stessa cosa vabbè queste due principalmente sono le mie perplessità cosa ho da dire in merito questa cosa è vero che già l'abbiamo vista però onestamente il personaggio di Bazzia di Dira secondo me potrebbe offrire bei spunti come anche quello di Woody però secondo me con Woody avevano un problema e una difficoltà oggettiva perché Woody si riferiva a una serie tv di anni molto antecedenti la serie tv di Woody originale era in bianco e nero la serie ovviamente irreale che noi vediamo in Toy Story 2 invece la serie o il film tra virgolette su Bazzia era già ambientato contemporaneamente alla storia del primo Toy Story quindi realisticamente ci può stare come cosa cioè ci può stare rispetto a quel mondo lì ovviamente vedremo una grafica insomma dei nostri tempi quindi a livello niente ho visto questa nuova tuta cioè si vede parte di una nuova tuta quindi vedremo un Buzz Lightyear il personaggio Buzz Lightyear era un po' più giovane immagino immagino che molto probabilmente ci sia anche da ridere nel film ma sia anche un film d'azione sicuramente vedremo qualche personaggio che già conosciamo cioè non possiamo non vedere Zurg ci metto già la mano sul fuoco e forse chissà riserverà qualche sorpresa qualche easter egg sicuramente ma anche forse non lo so io immagino un finale del tipo che quel film lo stia guardando Andy in televisione o magari Sid il che insomma diciamo sarebbe anche un grande omaggio ai fan della primora perché dico questo perché onestamente questo è stato tutto il mio hype la mia eccitazione merito ma 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 voglio anche diciamo incazzarmi leggermente perché voglio incazzarmi perché la seconda cosa che mi è venuta da pensare dopo aver visto questo teaser perché poi non è neanche un trailer si vede semplicemente la scritta Lightyear con il raggio laser che l'attraversa ah quanto ho goduto vedere quella cosa vabbè stavo pensando a Toy Story 4 ok quella quella spazzatura inenarrabile di Toy Story 4 e cazzo vi siete passati una mano sulla coscienza forse mi sa che era anche ora di passarvela dopo aver fatto passare Buzz Lightyear il personaggio Buzz Lightyear era come un bamboccio un cretino un coglione un qualcuno da denigrare da usare solo come gag comica vi siete passati la mano sulla coscienza io non lo so però se così fosse sono realmente contento che voi l'abbiate fatto perché onestamente l'amaro che avevo in bocca era troppo e cazzo non me l'aspettavo non me l'aspettavo di questo annuncio assolutamente come se non se l'aspettava penso nessuno e comunque non me l'aspettavo anche vedendo come è stato trattato il personaggio di Buzz come è stato bistrattato assolutamente quindi che dire alla regia ci sarà il co-regista della ricerca di Dory un film che onestamente non è che mi abbia fatto impazzire però aveva il super che sotto il profilo tecnico ma non era assolutamente a livello della ricerca di Nemo circa di Dory ci sono un sacco di cose che non manderò mai giù tra l'altro chi vuole metto in descrizione il link alla tier list o alla tire list alcuni mi hanno detto che si dice così non lo so in cui parlo di tutti i film Pixar catalogandoli per diciamo mio gradimento dicendo due paroline anche in merito sostanzialmente ecco quindi la potete vedere sembra un'opinione mia più dettagliata sulla ricerca di Dory e quindi niente ragazzi non vedo l'ora di vedere questo buzz più giovane questa evoluzione questa storia che creeranno attorno al personaggio non vedo l'ora c'è solo un problema ovvero che dovremo aspettare due anni due fottuti anni ecco e se ne abbiamo dovuti aspettare tanti non mi ricordo neanche quanti per vedere quella munnezza di Dory Story 4 spero che almeno invece questa volta ne valga la pena niente ragazzi io vi ringrazio di aver visto questo video chi vuole farmi una donazione trovate il link in descrizione Paypal ringrazio anticipatamente chi lo farà siccome non ho l'amoreggiazione youtube attiva perché youtube sono mesi che mi penalizza per dei video caricati anni fa sul copyright eccetera lasciamo stare comunque quindi fatemi sapere cosa ne pensate di questo annuncio cosa ne pensate in generale di questo progetto di come sarà di come potrebbe essere e niente date un ascolto anche alla mia nuova canzone al mio nuovo progetto mettete il segui alla mia nuova pagina musicale instagram e anche a quella alla personale la musicale è stre trattino basso musica quella la personale è stefano trattino basso crispino oggi mi sento marchettaro e niente ragazzi verso l'infinito e oltre che poi sembra un po' comunista come motto ciao